Siamo con Vincent Spaccapeli, direttore marketing di Hotel Volver, unione di imprese, nata per offrire servizi integrati al settore alberghiero. Benvenuto ai microfoni di Media Hotel Radio. Grazie a voi dell'ospitalità. Qual è il reparto che gli hotel faticano di più a gestire in maniera autonoma? Ma guarda, ci sono secondo me diversi reparti, sono quelli che richiedono fortissima specializzazione e grande attenzione nella gestione del personale e delle risorse. Io in particolar modo posso citarti quello del settore delle pulizie se vuoi o del food and beverage, che secondo me sono quelli molto complessi e che richiedono degli skill veramente molto molto alti in questo momento. Quali sono i servizi invece sui quali puntate di più per il futuro? Qualcosa di innovativo? Cosa state sviluppando? Guarda, stiamo sviluppando numerosi servizi e stiamo sviluppando anche dei servizi o comunque degli strumenti tecnologici per poter mettere in condizione i nostri clienti di poter dialogare con il loro pubblico in maniera molto molto puntuale e molto molto mirata. Sono servizi o strumenti o piattaforme che integreranno quello che è il servizio classico all'hotellerie con quello che l'hotellerie deve fare per i propri clienti. Noi ad oggi abbiamo delle partnership molto molto importanti e non vi dico i grandi brand con cui stiamo chiudendo questi contratti adesso perché sarà tutto quanto una sorpresa. Poi fin quando non c'è l'ufficialità mi sento di dover rimanere, ma sì ma poi è meglio rimanere un pochino più coperti per il momento. Però stiamo avviando dei grandi grandi progetti con i protagonisti di questo settore e il prossimo anno avremo veramente delle sorprese molto molto belle. Perché demandare la gestione di servizi interni ad una società esterna? Non c'è il rischio di una spersonalizzazione dei servizi proprio in un tempo in cui l'accoglienza di casa riscuote molto successo? Allora invece potrebbe essere quasi il contrario. Mi spiego da una parte demandare all'esterno significa acquisire professionalità nuove, significa acquisire know-how nuovo, significa acquisire comunque le doti e le capacità di un'azienda che sta sul mercato, che si aggiorna, che si forma e che è fortemente motivata a trasferirti un servizio di altissima professionalità. Il segreto sta nel creare una profonda relazione con l'azienda partner. Se tu crei una profonda relazione allora l'azienda diventa parte integrante del tuo hotel, assorbe quelle che sono le caratteristiche del tuo hotel ed è in grado anche di trasferirli con il calore giusto. Questo è molto molto importante. Noi cerchiamo sempre di trovare delle soluzioni particolarmente strutturate all'erogazione dei servizi o alla risoluzione dei problemi. In realtà noi dobbiamo avere una visione molto molto semplice. Sono le persone che fanno la differenza e se le persone hanno la testa e hanno il cuore anche in questo caso per assumersi la responsabilità e il ruolo che devono rivestire all'interno di un hotel o all'interno di una struttura alberghiera in genere, questa cosa non può far altro che far percepire il calore, far percepire la professionalità e far percepire degli elementi vincenti che si ripercuotono inevitabilmente e poi sulle recensioni che gli hotel hanno e naturalmente sull'incremento dell'occupazione. Grazie a Vincent Spaccapeli di Hotel Volver. Grazie a voi, complimenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.